Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info La partita del Sistri è in pieno svolgimento perché, come riferimmo qualche settimana fa, è in atto un'ulteriore verifica tecnica con le organizzazioni di categoria. Dopo la riesumazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, nei giorni scorsi Confartigianato, con il supporto tra l'altro dell'Associazione di Centina, ha preso parte ad incontri presso il Ministero dell'Ambiente. L'obiettivo è quello di escludere dai nuovi obblighi le realtà più piccole e comunque di contenere il più possibile la portata degli adempimenti a carico delle imprese artigiane. Ce ne parla nel dettaglio Loris Rui, responsabile area e ambiente di Confartigianato Vicenza. Confartigianato Vicenza si sta muovendo per quanto riguarda la questione del Sistri per cercare di risolverla in favore delle aziende associate. In che modo? Sì, stiamo lavorando insieme alla Confartigianato nazionale per strutturare la proposta per il decreto che va a semplificare la vita delle imprese artigiane in relazione al Sistri, ovvero la recente normativa che ha rimesso, riattivato il Sistri e quindi lo ha rimesso in pista, specifica che entro il 15 dicembre deve essere emanato un decreto tecnico nel quale vengono previste alcune semplificazioni per le imprese. Nel caso specifico stiamo proponendo l'esenzione del Sistri per quanto riguarda le aziende che producono meno di 500 kg di rifiuti pericolosi all'anno, quindi un numero considerevole di aziende e proporremo anche l'esenzione del Sistri comunque indipendentemente dai quantitativi per alcuni mestieri. In particolare ci siamo concentrati sugli estetisti, sui parrucchieri, sugli installatori, gli adili, i giardinieri e altri mestieri che a nostro parere possono essere tranquillamente esentati. Vi sono altri aspetti invece di carattere tecnico proprio della gestionare del Sistri sul quale stiamo intervenendo per renderlo più alla portata delle piccole imprese artigiane. Un'altra partita aperta invece è quella che riguarda i contributi. Sì, è un problema molto sentito dalle aziende. Praticamente hanno versato il contributo per il 2010-2011 inutilmente, sosteniamo noi. Il Sistri non è partito quindi non si capisce perché sono stati pagati questi soldi. Quindi la nostra posizione è quella di continuare a chiedere o la restituazione di questi denari versati o quantomeno che questi vengano tenuti in considerazione per gli anni successivi. Sono due anni, sono cifre importanti. Quindi nel caso della provincia di Vicenza noi consideriamo di aver versato tramite le aziende quasi 2 milioni e mezzo di Euro. Pensiamo che questa cifra debba essere in qualche maniera riconosciuta alle aziende.